Allora, Italia-Uruguay, Ventotene, bella isola del Lazio, vicino Formia. Bene, ecco, abbiamo qui il simbolo dell'Italia e siamo con... Alessio e Barbara. Allora, Alessio, pronostico Italia-Uruguay? Sì, con 2 a 1. 2 a 1 per l'Italia. Immobile e Ballotelli. Immobile, cioè Ballotelli e Immobile, rimane fermo sul campo, battutacce. Immobile e Ballotelli. Sono un po' più pessimista, quindi non lo so. Le donne sempre più pratiche e pessimiste. Sì, più pessimista, al massimo posso dire pareggio. Pareggio, che comunque ci lancia proprio dalla finestra. Ci lancia nel girone avanti. Va bene, allora, buon proseguimento. Speriamo poi di rivederlo questo video con allegria, piuttosto che con tristezza. Grazie a voi, grazie, buon proseguimento. Buona partita, ciao.